approfondimenti su detto e mostrato rispondo a tre delle vostre domande buongiorno a tutti da livio gambarini di rotte narrative oggi in questa pillola didattica risponderò a tre delle domande che mi avete fatto sul canale di rotte narrative nei box dei commenti a dei video nelle scorse settimane in relazione a uno degli argomenti più annosi della su cui si dibatte nel campo della narratologia negli negli ultimi decenni che è la classica massima show don't tell che significa mostra non dire quindi fa in modo di suscitare la di rappresentare la scena in modo che sia essa a suscitare le emozioni nel lettore invece che dire al lettore quale emozioni stanno provando i personaggi in scena quindi show contrapposto a tell show in inglese vuol dire mostrare e invece tell vuol dire dire raccontare allora questo per questo video qui partirò proprio da tre domande che mi avete fatto voi la prima è questa qui come mostrare il passare del tempo nella storia questa è una domanda molto intelligente perché chiaramente mostrare il tempo che passa è una cosa che è molto facile per chi adotti una narrazione in tel quindi detto ma potrebbe essere più complicato anzi può è più complicato per chi invece si sforzi di fare una narrazione mostrata dal momento che il mostrato almeno quasi nelle nel suo stato più perfetto richiede una perfetta diciamo coincidenza fra due flussi diversi che sono da un lato il flusso della scena che scorre quindi la velocità con cui avvengono le cose rappresentate nel testo e la velocità della lettura del lettore questo è una cosa che in moltissimi ignorano mentre invece è raccontata naturalmente nel dettaglio spiegata come ottenerla nel mio corso lo scrittore speciale di rotte narrative di cui potete trovare il link qui in descrizione insieme a tante altre tecniche stilistiche specifiche della narrazione trasparente quella che utilizza il mostrato che è chiaramente la tecnica più difficile ma anche più raffinata da usare in quanto antintuitiva per chi si approcci per la prima volta nella scrittura e insomma per chiunque voglia iniziare adesso nel 2020 una carriera di scrittore che ovviamente non è come scrivono gli autori già consolidati che hanno magari 60 anni di carriera alle spalle che naturalmente queste formulazioni ai loro tempi quando si sono consolidati uno stile magari non c'erano erano molto meno perfezionate di quanto invece la narratologia oggi consenta quindi torniamo alla nostra domanda come mostrare il passare del tempo nella storia se il perfetto mostrato deve sforzarsi di mostrare le scene istante per istante e questo chiaramente è un grandissimo vantaggio per la scena in termini di immediatezza proprio di senso di immersione di immersività per il lettore all'interno dei fatti descritti c'è da dire che quando invece bisogna far andare avanti velocemente la storia il discorso si complica come fare infatti a gestire questa mancata sincronia fra la velocità con cui accadono le cose sul testo e la velocità con cui il lettore legge le cose questo per la maggior parte degli scrittori che non abbiano studiato approfonditamente la narratologia può sembrare un non problema cioè ma che problema è scrivo il giorno dopo alla frase successiva e vado avanti perciò che perché porsi questi problemi e lo so che non ve li ponete questi problemi in realtà porse lì non è una cosa da poco per chi conosca bene la il significato del mostrato e il significato del detto show e tell in realtà questa non è affatto una cosa secondaria con tutto che non è come abbiamo visto non è che gli scrittori sempre al cento per cento utilizzino una perfetta narrazione in mostrato dipende molto da quello che è la vostra finalità la finalità con cui scrivete il testo ci sono degli scrittori che si sforzano di creare la totalità del loro romanzo tutta di scene mostrate istante per istante però intanto non tutti i lettori hanno facilità a leggere storie scritte in questo modo per mancanza di abitudine poi non tutte le storie si prestano a essere descritte in questa maniera qui in ogni caso diciamo che se la vostra il vostro diciamo punto di interesse in questa questione è cercare come io vi raccomando fortemente soprattutto se state imparando adesso a scrivere di scrivere un romanzo che sia il più mostrato possibile allora questo qui di come mostrare il passare del tempo nella storia può essere effettivamente una questione importante da trattare allora chiaramente il primo modo con cui si gestisce il passaggio del tempo è con le cesure quindi finisce una scena si salta una riga oppure si comincia con il capitolo successivo cambio di luogo cambio di momento si fa in modo di introdurre all'inizio della nuova porzione di testo qualche riferimento topo cronologico quindi dove siamo e quando siamo rispetto al passato e da lì in poi la scena riprende a fluire con la sua velocità normale quindi in sincrono tra il flusso di lettura e la velocità della storia come si fa non è troppo difficile se ad esempio vi abituate è uno dei metodi che potete usare ok quello più semplice da padroneggiare agli inizi se voi ad esempio nella chiusura della scena precedente lasciate intendere lasciate pendente un gancio topo barra cronologico che poi all'inizio della scena successiva si riapre con la scena che riparte laddove era si si paventava che sarebbe andata si mostrava che sarebbe andata si profilava ecco che il lettore fa subito il il collegamento e riempie il gap riempie lo spazio mancante un esempio concreto può essere due personaggi stanno hanno dopo aver fatto una ricerca in una vecchia casa abbandonata scoprono sotto una pietra smossa una un foglio con scritto una lettera con scritte delle cose e si rendono conto che il luogo dove possono trovare quello che cercano realmente è dall'altra parte della città nella locazione x diciamo una fabbrica di salumi quel che voi quel che volete voi stimano fra di loro parlano dice non c'è altra scelta dobbiamo andare lì stacco scena successiva quindi riga saltata scena successiva loro scendono da un'automobile uno dei due risponde al telefono e l'altra persona al telefono gli dice avete già trovato il l'oggetto nella nel piano interrato della salumeria loro siamo appena arrivati come siete appena arrivati ci avete messo due ore a fare dieci chilometri e si c'era un incidente in tangenziale siamo arrivati adesso comunque abbiamo ancora mezz'ora prima che cominci quello del turno di notte ok ecco risolto questo è un esempio al volo di come risolvere il passaggio del tempo quello di far passare il tempo privilegiare di privilegiare il passaggio del tempo all'interno delle cesure fra una scena e l'altra è il modo più semplicemente più elegante più tranquillo più semplice con il quale potete gestire la la sincronicità li salti di acronici da un punto all'altro della vostra storia ok passiamo alla seconda domanda prima però bevo questo è il momento è il mio momento di pace di meditazione della giornata sapete sono le dieci di sera non mi sono fermato un attimo sono in piedi dalle sette di questa mattina e ovviamente invece di rilassarmi davanti a un film o una serie tv sto girando un video per voi questa è la vita degli scrittori benvenuti allora mi chiedete sulla in un commento a un altro video dove ha senso usare il tell in maniera da tattica come linea guida generale in modo tale che non faccia uscire troppo il lettore dal personaggio giustamente qua la domanda sottintende a un aspetto importante il mostrato è la tipologia è la tecnica narrativa che permette di veicolare nel modo più efficace l'interiorità del personaggio una narrazione molto focalizzata significa che ha il punto di vista coincidente può essere vicino al personaggio o addirittura del tutto sovrapponibile che è una tecnica che va sempre è molto di moda e prende sempre più il piede nata nel novecento con la coscienza di zeno insomma personaggi in cui il narratore è interno alla scena e il suo filtro perso della di personalità il suo filtro psicologico investe tutta quanta la realtà che sta attorno al personaggio quindi impregnandola dei suoi pregiudizi stereotipi preconcetti esperienze di vita decodifica del mondo eccetera 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 quindi la realtà oggettiva non esiste esiste una realtà filtrata dalle esperienze del personaggio e da come è questa qua è la narrazione super focalizzata la narrazione trasparente e per farlo chiaramente si mostra la realtà per mostrare l'interiorità del personaggio perciò la narrazione con il mostrato gestito in questo modo qua è un modo molto difficile non aspettatevi di riuscirci con uno schiocco di dita se non avete studiato approfonditamente come si fa non ci riuscirete subito ci vuole del tempo ci vuole dello studio perché non riuscite a capirla da sola se non in un arco di anni anni di studio di chi sa utilizzare questa tecnica in modo serrato ma comunque vi occorre anche proprio della formazione teorica è normale ci si è passati tutti però appunto chi studia approfonditamente la tecnica del mostrato la tecnica della narrazione trasparente a un certo punto si rende conto che il modo migliore per far immedesimare il lettore all'interno di un personaggio che è una cosa importantissima la creazione dell'empatia perché è la chiave per la quale c'è la partecipazione emotiva alle vicende del personaggio chiaramente si rende conto appunto è ormai abbastanza assodato che la tecnica del mostrato sia quella che permette la maggiore empatia la maggiore immersione all'interno della vicenda dal punto di vista interno del personaggio che è quello che dà i risultati migliori sotto tanti aspetti appunto del narrato ma allora dove mi viene domandato ha senso usare il tel in maniera tattica come linea guida generale in modo tale che non faccia uscire troppo il lettore dal personaggio allora non non è obbligatorio mai usare il tel è possibile come dicevo poco fa anche costruire dei libri per quanto sia molto difficile esclusivamente dimostrato è molto difficile soprattutto se siete agli inizi ed è vero che piuttosto che rimanere incaponiti su una scena in cui non riuscite proprio a non usare il tel perché quando cominciate a scrivere se non avete studiato come si scrive scrivete tutto in tel o quasi e vi viene normale perché è il modo in cui scrivono gli autodidatti gli letterati cioè non il letterati nel senso che non sappiate che non abbiate mai letto letteratura gli autodidatti della narratologia quelli che non abbiano fatto studi di narrazione e perciò il tel è quel modo lì che viene viene spontaneo calcolate che quasi tutti i classici della letteratura dall'ottocento indietro sono quasi completamente scritti in tel poi la narrazione si è evoluta ovviamente come tutte le cose come tutti anche tutte le discipline umanistiche e come è giusto che sia si sono evolute quindi adesso abbiamo nuovi strumenti come linea guida generale però appunto posto che il tel non è un peccato mortale se sai a cosa rinunci quando vi fai ricorso questa è la cosa importante come sempre le regole esistono perché devono guidare le vostre scelte ma le vostre scelte non è che ve le bloccano se voi decidete di prendere una certa una certa via un certo percorso d'azione in un certo punto dovete essere consapevoli di cosa questo comporterà e una volta che lo sapete potete farlo in questo caso specifico con la domanda che mi viene fatto dove il tel non è problematico per quanto riguarda l'uscita dal personaggio portatore di punto di vista chiaramente è meno problematico laddove la scena non abbia una temperatura elevata il concetto di temperatura è un altro degli argomenti che sono spiegati in dettaglio nello scrittore speciale nel video corso che abbiamo realizzato noi di rotte narrative per chiunque stia studiando questi aspetti qui e passo passo abbia bisogno di assorbirli con metodo in una scala precisa che porti vi porti da punto a punto b a sapere a conoscere tutte le nozioni che occorrono per scrivere un buon libro la temperatura è quel valore diciamo è quel termostato della scena che determina quanta tensione è contenuta in un certo punto e anche altre cose è super riassunta la questione la temperatura di una scena può essere il ad esempio creata da quanto conflitto c'è all'interno di una scena può essere creata da quanta prospettiva di conflitto c'è in una certa scena magari il conflitto non si verifica però c'è la tensione tra un conflitto possibile imminente poi quello non si verifica ma la temperatura è stata alta per tutta la scena detto in due parole ok quindi il tel non fa grossi danni o non ne fa proprio a seconda dei casi è sempre dipende dai casi nelle scene a bassa temperatura quindi le scene in cui semplicemente il lettore debba andare oltre perché le cose che succederanno importanti vanno oltre ma in realtà queste scene non sono necessarie da inserire quasi sempre è possibile risolvere ogni necessità di tel di raccontato semplicemente architettando meglio la scena in anticipo in modo da evitare quel tempo morto perché è possibile accelerare il tempo semplicemente nella stessa scena senza mettere una cesura però in realtà non è così utile questa cosa è molto più è un problema è un'esigenza che viene sentita molto di frequente questa che ha cagionato la domanda a cui sto rispondendo perché non c'è l'abitudine da parte degli scrittori esordienti quindi fateci focalizzateci bene la vostra attenzione voi non siete abituati come dovreste ad architettare le scene in anticipo ve lo ripeto voi dovreste architettare maggiormente le vostre scene in anticipo qual è invece l'approccio standard l'approccio standard è ho in mente una cosa scrivo la scena nel primo posto che mi viene in mente per ambientare quella scena e poi man mano la scena me la invento man mano che scrivo sbagliatissimo è sbagliatissimo se state scrivendo una storia precisa fatta con che si basi su svolte di trama eccetera eccetera quindi non la classica storia character driven con flusso di coscienza introspezione bla 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 quelle cose che insomma gira che diri gira è molto difficile renderle storie ben scritte perché sono troppo filtrate e hanno pochi ganci con la realtà ecco quindi noi cerchiamo e quelle lì c'è poco da dire quindi non è che siano brutte storie a prescindere a priori però obiettivamente sono poco istruttive quindi non ha molto senso che ne parliamo qui quando se invece state scrivendo storie normali storie che il mercato apprezza che vanno che vendono che la gente legge volentieri storie che si basano quindi su una trama su una serie di conflitti su un difetto fatale del personaggio eccetera 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 se state studiando se state strutturando una storia di questo tipo qua voi quello che scriverete all'interno di una scena lo dovete conoscere prima di mettervi a scrivere quella scena ma non soltanto a grandi linee no no nei dettagli voi non dovreste mai scrivere una scena del vostro romanzo senza prima esservi fatti una pagina di testo di appunti con tutte le cose che devono succedere in quella scena se voi sincronizzate i due momenti della costruzione della scena e della stesura voi fate il doppio dello sforzo e dal momento che avete una quantità di attenzione definita limitata probabilmente verrà la metà bella sensata coesa al suo interno di quanto sarebbe venuta se voi aveste separato i due momenti e foste stati prima completamente concentrati nella costruire quello che doveva succedere evitando i tempi morti risposta alla domanda e solo poi vi foste messi a scriverla concentrandovi su cosa sull'aspetto superficiale sullo stile sulla scorrevolezza sui dialoghi sulle battute sui rimandi interni sulla superficialità sulle cose tutte cose importantissime non sottovalutatele per niente ecco che avreste avuto in due momenti diversi determinato due aspetti diversi che sono in realtà su due livelli diversi una la costruzione l'altra è la stesura la scrittura vera e propria questo è questo è l'architettura sono le due facce della scrittura perciò in realtà il problema di utilizzare il tel in maniera tattica nelle scene di bassa temperatura il tel serve appunto per velocizzare un po le scene noiose ma se voi le scene le avete create meglio le avete architettate meglio non c'è motivo di mettere delle scene noiose nel vostro testo ok questo è il concetto di base poi altra cosa piccola parentesi il tel fa meno danni a mio avviso in prossimità delle cesure delle cesure di scena quindi si chiude una scena si apre un'altra scena se non è possibile adottare la la tecnica che vi ho descritto in risposta alla prima domanda quindi quella del si chiude la scena preludendo a dove riaprirà quella successiva poi si riapre quella la scena successiva ed effettivamente siamo lì perché mettiamo caso si scambia il punto di vista va su un'altra scena su un altro personaggio un personaggio nuovo una scena nuova che non è ancora stata introdotta in quei punti lì per qualche piccolo tempo è possibile insomma non partire in focalizzazione perfettamente stretta e veni per venire un po incontro al lettore è una scelta che probabilmente non è ottimale ma che appunto potrebbe essere preferibile da parte di chi non abbia ancora interiorizzato le regole di scrittura in modo veramente molto approfondito che probabilmente quindi è il vostro caso perciò in quei casi lì però è perciò potrebbe potreste decidere di farlo io non ve lo raccomando io vi raccomando di cercare di sforzarvi se di tenervela come ultima spiaggia e di sforzarvi invece il più possibile di essere coerenti con la con la tecnica narrativa quindi se volete scrivere un romanzo in uno stile moderno trasparente cercate di farlo tutto scritto in quel modo lì e riservatevi il tell proprio ai ai luoghi disperati ok come si diceva ai tempi dei corsi di filologia i crux desperazioni mi pare si chiamasse comunque nei punti in cui non sapete come altro risolverla piazzateci il tell e andate avanti probabilmente poi ripassandoci in una stesura successiva arrivate lì vi viene in mente la cosa e la risolvete e avete risolto il problema d'accordo c'è poi un'altra domanda ancora valpolicella tra i miei vini preferiti come entrare nell'interiorità del personaggio o descrivere ricordi flashback eccetera senza cadere nel raccontato entrare nell'interiorità del personaggio e descrivere ricordi flashback eccetera senza scadere nel raccontato è la classica domanda che fa chi non conosce la tecnica del mostrato entrare nell'interiorità del personaggio in realtà è molto più efficace se lo fate attraverso il filtro psicologico del personaggio come abbiamo detto prima rispetto che non con il classico mappazzone di 15 righe di spiegone del narratore esterno che ci racconta l'antefatto del vissuto del personaggio e ci arriva pan dritto nel pancreas come una pedata a gamba tesa non c'è assolutamente bisogno di andare nel tell quando si vuole mostrare l'interiorità del personaggio l'interiorità del personaggio è come un filtro trasparente che si frappone fra il personaggio e il mondo quindi influenza il modo in cui lui vede il mondo lo distorce lievemente immaginate di guardare il mondo attraverso un fondo di bottiglia qual è il colore del vetro il mondo verrà visto attraverso con quel colore come come sono bombate le contorni di questo fondo di bottiglia vuol dire che il personaggio ha certi bias quindi lui quando vede certe cose le interpreta in un modo così e la sua voce mentale quelle parti del mondo le descrive così se un personaggio per esempio è razzista lui vedrà non vedrà un ragazzo di colore che cammina per la strada e si fa i fatti su e ascolta della musica vedrà un vedrà un negro che perde tempo e probabilmente sta aspettando il prossimo da borseggiare se il personaggio è razzista la vostra storia lì deve riportare questo perché così è come lui vede quella scena le distorsioni interiori di con i quali i vostri personaggi di finzione vedono il mondo voi le dovete imparare a mostrare in questa maniera qui quindi attraverso le parzialità inconsapevoli da parte dei personaggi stessi molto spesso funziona così che influenzano la loro visione del mondo quindi questo è il modo migliore per entrare nell'interiorità del personaggio e descrivere anche i suoi ricordi solo però laddove questi ricordi sia plausibile che emergano alla mente del personaggio per qualche aggancio mnemonico che si è affacciato alla loro sfera percettiva quindi non quando fa comodo a voi ma quando è sensato all'interno della scena questo è molto importante ed è un altro degli aspetti della scrittura trasparente che spiego nel nello scrittore speciale l'argomento c'è poi la questione del flashback il flashback è uno strumento invece di intreccio è una tecnica è uno strumento retorico di intreccio che vi permette di fare uno stacco nella scena e dimostrare una nuova scena avvenuta semplicemente nel passato qui non c'è molto da dire il flashback non è che una scena come quella che stavate raccontando fino a quel momento semplicemente che è avvenuta nel passato e che getta una nuova luce al lettore su quello che sta vedendo che ha letto fino a quel momento potrebbe essere la spiegazione di un qualcosa potrebbe essere una rivelazione una agnizione sulla identità di un personaggio che fino a quel momento aveva una identità attribuita diversa eccetera eccetera d'accordo quindi anche questo il flashback è uno strumento molto comune nel thriller nel giallo in in tutti quei generi che che ruotano molto attraverso la concatenazione di elementi disposti in una sequenza logica e che quindi può essere anche molto interessante manipolare artificiosamente questa sequenza logica posponendo la scoperta di elementi che invece sono sono cronologicamente anteriori per farli arrivare solo nel momento in cui sono portatori di una rivelazione quindi di un colpo di scena che fa dire ah ecco la spiegazione di tutte queste cose che ho visto e questa è la tecnica ovviamente basata sul flashback d'accordo qui erano tre risposte a tre delle domande che mi avete fatto nel corso delle ultime settimane appunto sui video di rotte narrative se state guardando questo video su facebook o su un altro canale di rotte narrative sappiate che il grosso delle cose è invece su youtube quindi cercate il canale rotte narrative su youtube iscrivetevi se volete avere degli altri video come questo qui mettete mi piace se vi è piaciuta questo mio sforzo questo di volontà estremo contro la fatica la stanchezza il mal d'occhi e tutte queste cose qui per rispondervi e per darvi qualche spunto di riflessione su come risolvere dei problemi pratici di scrittura creativa non dimenticatevi anche se non l'avete ancora fatto di iscrivervi alla mailing list di rotte narrative vi lascio il link qua sotto in descrizione facendolo non soltanto avrete in anteprima il link di tutti i video che pubblicheremo qui sul canale e li pubblicheremo tre volte alla settimana più un evento in diretta ma avrete anche la possibilità di accedere al materiale esclusivo rivolto soltanto agli iscritti della mailing list come ad esempio quello di candidare i vostri testi al line editing che farò appunto durante alcune delle live che è naturalmente un'opportunità molto preziosa perciò io per oggi mi fermo qui vi saluto vi auguro buona scrittura e buona lettura arrivederci da livio gambarini di rotte narrative grazie a tutti grazie a tutti